Ecco qua, questo è Vien de Ter. Lo abbiamo montato per la prima volta, ci sono Paolo e Ramon, si deve varare, però la vela e il fiocco sono sempre quelli dell'altra volta. Adesso me ne vado perché li devo aiutare a salire in acqua, ad uscire in acqua. Poi se posso vi faccio vedere l'uscita. Ciao!